Consigliera Fusco, per la parliamo di zuccherificio, di 71 dipendenti, 71 famiglie in difficoltà, si chiede salvaguardia dello stabilimento ma soprattutto dei posti di lavoro. Sì, è un'avvertenza molto difficile, complessa e che oggi non ancora trova soluzioni ed è difficile trovare una soluzione. Però noi in sei consiglieri regionali abbiamo già chiesto al Presidente una seduta monotematica perché si possa dibattere questa problematica così complessa che tratta anche materia di programmazione e quindi il Consiglio regionale dovrebbe pronunciarsi su che cosa mettere a disposizione insieme alla Giunta e chiedere soprattutto alla Giunta quali siano gli interventi che la Giunta intenta mettere in campo per salvaguardare la produzione di zucchero oppure per un'alternativa che possa non solo mantenere un presidio ma salvaguardare i posti di lavoro. È già tardi per la salvaguardia dei posti di lavoro. Avremmo dovuto già capire cosa mettere in campo, quali strumenti usare anche grazie a strumenti nazionali previsti dalle norme oppure strumenti regionali attraverso fonti nazionali, fonti europei e anche perché disponibilità della Giunta regionale e degli strumenti di finanziamento regionale. Il lavoro resta una delle piaghe maggiori per la Regione Molise, non solo il zuccherificio ma anche il TR e il GAM. Si preannuncia un autunno di fuoco per i lavoratori? Allora l'autunno di fuoco non riguarda solo i lavoratori ma riguarda tutti noi che abbiamo un ruolo importante e forse questo ruolo importante non l'abbiamo esercitato ciascuno per le proprie competenze rispetto a una problematica di grande emergenza che è quella del lavoro che non parte da oggi. Oggi è il terminale di una politica o di una non politica di programmazione e di sviluppo di questa Regione e non utilizzo in maniera utile e con tempestività di tutti gli strumenti che ci sono stati consentiti. A noi rammarica un fatto che non siamo stati investiti come Consiglio regionale pur avendo il ruolo della programmazione, non un ruolo decisionale di esecutivo o di scelte ma un ruolo di programmazione sulla quale si poteva poi fare delle scelte che non avrebbero determinato una crisi così profonda che riguarda non solo i lavoratori fuori dal mondo del lavoro con queste aziende ma non solo con queste aziende così importanti come lei ha citato ma anche le piccole e medie imprese ma anche tutto quel tessuto dei servizi che oggi è smantellato. La situazione, non è questa una critica strumentale, è soltanto un invito a capire se da oggi noi possiamo trovare una sintesi laddove la sintesi è necessaria col coinvolgimento di tutti per una situazione così drammatica e oggi quasi ingestibile. Ecco la situazione drammatica diciamo che è solo il risultato di tante operazioni forse negative che ci sono state purtroppo in passato. Allora io quest'alibi lo smonterei. Nel passato ci sono state delle scelte ma le scelte hanno garantito il lavoro. Forse è costato troppo garantire il lavoro però è stata una scelta. Da tre anni in poi che scelta è stata fatta? Solo quella di uscire fuori come pubblico dalle aziende, soprattutto dalle aziende più grandi e poi non avere altre alternative? Io mi chiedo, è colpa del passato ma è colpa del passato, del presente e del futuro di tutti quelli che forse imbegnati in questa regione avrebbero dovuto cercare la soluzione migliore. Grazie. Grazie.